ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video saluta robertino ciao youtube italia e giocheremo a strambo il gas bella la vita robbie ti dico il codice del gruppo rison game closet grazie un gruppo in corso ok 12.350 12 35 0 non 33 vabbè gioco mi calcola male questa musica è copyright musica io intanto so che mi sento il copyright che mi bussa la porta no c'è proprio lo sento basta che non metti una canzone copyright robbie sei primo vero più o meno perché ci sono tre scheletri in questa lobby sono caduto ok facciamo finta che non è successo aiuto robbie cos'è successo ma non sei davanti davanti ah ah che vivo sono vivo bellissimo ah ragazzi questa mappa proprio la odio ciao it robbie così così a random scusa t'ho visto ti saluto scusa appena finisce sta partita ci sarà una breve pausa ragazzi qual'è dai qual'è vabbè questo vinco vero robbie robbie sono primo fu così che robbie morì come io sono robbie nude non robbie 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 aspetta ma io ce l'ho la scritto di robbie non credo penso di sì sai così la leggenda si avvera che sono robbie no sei robbie robbie vabbè ragazzi primo secondo non urlare come tu enis saluta youtube non è enis è mio cugino ah tu passi enis non è qui e dove e allora passami tuo cugino di salutare youtube è scappato è andato dal mio pappagallo bello ok qua io avevo vinto che praticamente eravamo scesi tutti ma dico tutti insieme e io ero l'unico sopra nessuno c'è sono saltato è ricaduto anche tu è ricaduto anche tu ma hai vinto ero caduto anche io ma ero caduto vabbè io vinto hit robbie sono il pagliaccio hit perché ti sei chiamato così non lo scopriremo mai perché non lo sai anche il creatore del nome bella la vita no non cadere no gioia non cadere madonna ma no 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 sono vivo sono vivo sei vivo sono vivo sei vivo sei vivo e vegeto io no più o meno no no non toccare i laser ho toccato i laser anche io e rimangono quei due telecronaca di gioelo e vince la infermiera attenzione no il diavolino perché Matteo è lucifero è per questo si merita di andare all'inferno ragazzi aspettate un momento adesso ci sarà una breve pa... ok ragazzi sei uscito dalla stanza? si sto facendo l'ultimo spin dove sei scusami? su stambol mi è capitato lo scè ho trovato Gordon creo il gruppo ti dico il codice ok 26 310 310 ovviamente quando ho scritto il codice non ero sulla barra 26 310 ci sono più o meno? tutte robe no no mi sono dimenticato di mettere Robin Hood e vabbè porca vacca breve pausa ragazzi taglierei questa qua è già là non penso che era vero porca vacca appena in tempo ragazzi Roby ci siete? no 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 ma tu le cose le tagli no non l'ho tagliata questa era di 2 secondi più o meno vabbè era pochissimo ti sei qualificato si 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 trovi c'è un gatto leone che bello che bella la vita comunque ragazzi ci saranno anche dei video dove io e roby giocheremo a fortnite dicendo tirando con gli shish che non avete io non ci sto capendo niente ci credo stuzzicate perché mandi a shish il kebab va a fare shish va a fare shish va a fare shish amici albanesi non so dicendo la parola è un è mio figino non un amico vai corri 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 robertino siiii non mi tirare in peggio fili negli occhi io mi sa che dopo questo stacco credo che mi sto drogando di acqua io dopo questo stacco perché devo staccarlo no robertino eh no roby qua vinciamo uno di noi vince c'è il robin hood rosso e anche un robin hood normale ah no c'è quello rosso i laser mi sembravano molto più piccoli lo scramm è più grande da compito allora non vuol dire che anche gli ocetti devono essere più grandi no ma gioco perchè vai a spia no no eh vabbè roby di un shish posso ah shish kebab ok 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 poi shish kebab mi senti ora devo andare se ti senti dai e devo andare perchè devi staccare perchè devo andare a dormire a quest'ora si non voglio dormire come ieri alle 2 di notte 3 di notte vabbè domani ci sentiamo no domani mattina non posso perché non mi faccio vedere vabbè ragazzi il video finisce qui ci vediamo ad un prossimo video shish kebab shish kebab ragazzi e